Casio negli ultimi anni ha sempre cercato di distinguersi dalla massa delle fotocamere compatte puntando sull'esperienza globale del marchio da sempre al lavoro sullo sviluppo di innovazioni nel campo digitale a questa attenzione si è affiancata quella per il design che ha portato a prodotti non solo di qualità ma anche capaci di catturare lo sguardo dei clienti una volta esposti sui balconi dei negozianti o della grande distribuzione l'ultimo rinnovo della gamma segue in pieno questi canoni offre fotocamere compatte di design ma anche prodotti di particolari nicchie le compatte exilim e x h15 z2000 e z550 sono accomunate dal sensore ccd da 14,1 megapixel e dal nuovo processore di immagine exilim engine 5.0 dotate di ottica zoom rispettivamente di 10 5 e 4 per offrono focali grandangolari 24 la prima e 26 mm le altre due ma puntano soprattutto sull'intelligenza artificiale per un riconoscimento avanzato delle scene capaci di registrare i filmati in alta definizione a 720p offrono anche una delle ultime innovazioni di casio la tecnologia dynamic photo che permette di creare scene dinamiche con i soggetti delle foto è già stata vista online ma solo ora è ufficiale anche per il mercato italiano la casio exilim e x g1 che si rifà al noto brand g shock che ha reso famosi gli orologi del produttore nipponico si tratta di una fotocamera da 12,1 megapixel rugged nel corpo e nell'anima ossia dotata di involucro impermeabile resistente che in grado di sopportare cadute da più di due metri grazie all'ingegnerizzazione dei componenti elettronici all'interno con tecnologie simili a quelle utilizzate negli orologi casio regina della presentazione è stata la casio exilim e x f h 100 che propone le tecnologie a speed di casio in una fotocamera da viaggio con zoom 10x e mille scatti di autonomia misurati con gli standard ciba il sensore cmos stabilizzato da 10.1 megapixel è del tipo back illuminated con struttura invertita che mette a diretto contatto della luce i fotorecettori le potenzialità di ripresa ad alta velocità della fotocamera vengono utilizzate non solo per raffica 9 megapixel a 40 immagini al secondo fino a 30 scatti e per i video fino a mille frame al secondo a risoluzioni di 224 per 64 pixel ma anche per funzionalità avanzate come lo stacking automatico di diverse foto per prevenire il mosso oppure contrastare l'insorgere del rumore tipico delle lunghe esposizioni nel primo caso addirittura con la modalità ritratto notturno la macchina scatta una prima foto con il flash per illuminare il soggetto e altre in raffica senza flash per ottenere uno sfondo esposto in modo corretto e caratterizzato da poco rumore